Però il merito è solo dei ragazzi, sicuramente io la classifica non la guardo perché il mio obiettivo è salvare il Taranto, non facciamo voli pintarici, però è normale che ci fa piacere perché in questo momento i numeri sono impressionanti. Se io domandassi al più ottimista di voi una squadra che nelle prime due partite mi sembra che avevamo preso sette gol, non voglio errare, e che in cinque partite prende un gol, voglio dire che non si può leggere una maturazione, una crescita della squadra sotto l'aspetto della fase non difensiva, difendente, perché è la seconda volta che io sono in vantaggio e tolgo un trequarti e metto una punta. Quindi quanto si dice Capuano difensivista? Io penso di essere un allenatore equilibrato, lei non sa come questi ragazzi mi seguono, possono essere tutti figli miei, una squadra giovane si deve identificare in un totem, il totem non è colui il quale impone, il totem è colui il quale in modo inconscio attrae su di sé l'interesse illimitato. E allora a quel punto a prescindere se fai l'allenatore, se fai il capoaria di una banca, se sei quello che vende le pendole e riesci a fare qualcosa che magari diventa difficile pensarlo. Questa è una squadra onestamente che si identifica molto in me, è una squadra capuanizzata, però ripeto è solo un punto di partenza, il cammino per salvarci è lungo e molto molto tortuoso.